Ragazzi mobilitatevi perché è un periodo difficile, se non creiamo speranza e entusiasmo la gente non ne può più badate che in Emilia, in Emilia, in Emilia, il 63% dei cittadini non è andato neanche a votare perché quando la politica si presenta povera, burocratica, totalmente chiusa in se stessa la gente veramente non ti sta più neanche a servire noi invece dobbiamo creare entusiasmo, cioè spiegare che veramente abbiamo nelle nostre mani la possibilità di cambiare tutto ma spiegando anche che questo davvero è l'ultimo treno che passa per la campagna, per Benevento, per le aree interi se perdiamo questo treno qui davvero non ci sarà più molto da fare e dovremo continuare ad assistere alla fuga dei nostri figli da queste tre e io non mi sono razzogliato a che la campagna abbia questo destino di lento degrado, di lenta agonia mentre potremo essere i primi in Italia